e siamo al bene ma non benissimo dopo essersi cimentati anche nella sapienza sulle maglie del napoli ormai futuro campione d'italia siamo invece a tornare con la memoria alle gesta di questo fine settimana sportivo con un bene lo diamo subito forse però con riserva all'ITAS che si fa trovare pronta nella sfida che poteva valere qualcosa ovvero il secondo posto che era quello che voleva e quindi si fa appunto trovare pronta e va a vincere la partita così come doveva forse anche con un po' più di abbondanza ma la riserva è perché appunto c'è sempre quel dubbio che poi quando arriverà al rush finale potrebbe non farcela io ho sempre questo quindi cos'è questa perplessità è un bene che lo si dà lo si dà a loro perché comunque serva anche per per fare carica per fare motivazione ma sul finale mamma che iettatore eh vabbè ma sono già due le finali anche quest'anno intanto devono arrivarci in finale ma sono convinto che in qualche maniera avendo evitato la possibilità di incontrare Perugia prima della fine eccetera è vero che c'è Piacenza forse di mezzo però dai io io do un bene che possa servire da carica anche se c'è la riserva sì vabbè ma voglio dire dovessero perdere in finale scudetto contro Perugia non è una colpa sono più forti ho capito però allora è un'altra stagione vabbè adesso buttata le ortiche poi c'è anche la Champions League buttata le ortiche buttata le ortiche non è che c'è se lui è un squadra che vince a lei non è che hai perso la finale di Coppa Italia hai perso la finale mondiale contro i campioni contro i più forti del mondo infatti ho detto gli do un bene sì ma gli dai un bene portando male per il futuro con riserva è come a scuola ti do un 6 ma sulla fiducia ma a me non me l'ha mai dato sulla fiducia non so a te però che cazzo vuol dire sulla fiducia comunque no io Ale capisco poco il tuo ragionamento ma lo rispetto in quanto anche tu sei un essere umano e almeno fino a prova contraria non credo sia una colpa perdere poi eventualmente è una colpa è un bene con riserva c'è anche la Champions dove eventualmente Perugia la incontrano in semifinale quindi neanche in finale infatti vediamo anche lì com'è ho capito ma tutti fino a squadra ad esempio come il Milan che negli anni 80 90 vinceva tutto per il momento ha centrato il secondo posto che è quello che voleva quindi bene adesso esiste anche il bene con previsione futura allora io dico invece male l'Aquila Basket perché non mi aspettavo meglio nessuno si aspettava che perdesse una partita contro un attreviso tutt'altro che irresistibile secondo me sono due punti persi pesanti in ottica qualificazione playoff e sono stati persi proprio su quei terreno che Molina aveva indicato cioè che aveva fatto come aveva detto in conferenza stambola per partita sul quale aveva chiesto di farsi trovare pronti di essere subito duri intensi eccetera eccetera e invece l'Aquila da subito è stata molle nel primo quarto nei primi due quarti ne ha messi 29 addirittura che è una squadra è una cosa da basket da minors minors come direbbero quelli bravi e quindi brutta sconfitta e adesso c'è domani contro il Budoknost squadra forte in Euro Cup domani secondo me perderà e sarà definitivamente fuori e sabato un impegno molto molto probante contro Tortona terza in classifica ma male l'Aquila sabato domenica Allora un bene un buonissimo l'abbiamo dati l'altro bene io lo do alla convinzione del Suttirol perché sta approcciandoci a queste partite ormai con una carica data proprio dalla consapevolezza che le partite le può anche portare a casa questo è una cosa che ha maturato probabilmente nel corso di queste settimane di questi mesi di risultati positivi ora va in campo proprio senza probabilmente essere telecomandato è guidato da una propria convinzione maturata nella propria testa aggiungo che se questa determinazione è data da Bisoli beh allora questo bene va va rivolto va rivolto soprattutto a lui leggevo di dichiarazioni di qualche giocatore che lo definiscono comunque un motivatore eccezionale quindi bene 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 io invece dico non benissimo il gioco che esprime il Suttiro perché ormai rimane ma io non sono un esteta perché tra l'altro ti fa una squadra che adesso un po' con italiano fa vedere qualcosa ma ha passato anni con gli achini in panchina e gente varia che però lì la tiffa e quindi c'è un coinvolgimento emozionale la seguivo lo stesso incazzandomi con una iena perché non vedevo nessun tipo di gioco e quindi guardare il Suttiro anche sabato contro il Parma per uno esterno perché non tiffo né Parma né Suttiro è stato poi a quell'orario alle due appena pranzato è stato veramente impegnativo veramente io non ti nascondo che i primi dieci minuti del secondo tempo li ho persi perché mi sono addormentato ma che dramma no mi sono addormentato alla due tre quarti quando è finito il primo tempo mi sdraio una è la verità mi sdraio un attimo mi sono risvegliato alle tre un non benissimo agli animalisti che hanno tentato di attirare attorno da loro l'attenzione sulla questione orso bloccando per pochi istanti il pullman del Trento con degli striscioni in cui si chiedevano ai giocatori di prendere parte pro orso e voi direte beh sei qui che ne parli quindi effettivamente gli animalisti un po' di attenzione l'hanno tenuta alla fine è vero lo facciamo anche di mestiere però non potremmo tacere di fronte a nessun tipo di episodio che avviene un non benissimo perché non è quello e non è così che si può far cambiare le cose e soprattutto non è agendo nelle grandi città che ci si può permettere di dire come si dovrebbe comportare nelle comunità montane che sono costrette quotidianamente a vivere con con questo tipo di animali insomma quindi nessuno faccia lezioni a nessuno soprattutto chi vive nelle metropoli si guardi dalle problematiche che riguardano le metropoli a me ha colpito di questo orso che ho letto essere un latin lover ma sembra no nel senso che se era pioppato se ne fate diverse no si è fatto diverse orsi ma vabbè cosa senta l'istinto animale no vabbè ma deve essere anche un bel ma deve essere un bel esemplare sì quindi mi ha colpito leggere che perché c'è anche chi si è perso la cronaca rosa sull'orso ok prego e quindi bene per l'orso perché è un orso che si è divertito nella vita quindi hai girato il mio non benissimo sì è bene per l'orso KJ5 non mi ricordo MJ5 MJ5 poi siamo a Michael Jordan sono le iniziali di mamma e papà con il numero del cucciolo bellissimo MJ MJ anche fashion perché è uno degli orsi più belli dell'arco alpino e pare anche super dotato però questo non lo so adesso ragazzi pare pare a posto così pare pare altro da aggiungere? va dai dire non bene del Levi come dici tu mi sembra di sparare sulla croce rossa mi sembra che gli altri hanno fatto tutti il loro compito la Virtus Bolzano ha staccato la spina da due mesi quindi diamo un bene a Pasquato dai Pasquato che sta veramente togliendo le castagne dal fuoco al Trento quando non riesce senza di lui a fare bene poi lui entra addirittura dalla panchina e fa la protezza balistica di domenica poi è meritevole insomma diciamo Ale che la memoria storica aiuta sempre e Cristian Pasquato è stato detto perché ieri avesse anche perso sesto San Giovanni rimaneva cinque punti dalla zona salvezza poi ci stava anche perdendo ma no appunto ma quindi è un gol bello più che pesante secondo me i gol che lui ha fatto a Novara al 94esimo che ha impattato e ha interrotto le sue sconfitte di seguito in casa il venerdì susseguente perché hanno giocato di venerdì al 94esimo su calci di punizione contro la Juve dando la vittoria dopo non so quando quelli sono stati veri gol lo sliding doors della stagione quindi un bene infatti è un bene in generale della stagione che sta facendo e così direi che abbiamo concluso anche con il nostro benevolo benissimo di questo inizio di settimana settimana ricchissima che comunque sarà intensa si mannaggia a chi martedì domani sera l'Aquila alle 8 mercoledì il Trento l'Aquila contro Budo il giovedì Litas l'Aquila il Trento mercoledì in casa con la pergolettese alle 18 giovedì Litas contro con il Polacchi quelli che hanno perso tra due vabbè Cosle Cosle si e per concludere sabato alle 20 sempre l'Aquila contro Tortona quindi praticamente le sere ci divertiamo non faremo come MJ in 5 questa settimana non avremo tempo per per fare molto altro vabbè comunque noi promessa venerdì vi racconteremo tutto quanto quindi seguiteci come sempre ore 18 in prima uscita e poi sempre sulle piattaforme le migliori piattaforme podcast vai MJ